Ciao a tutti, popolo del tubo e bentornati in un nuovo episodio della serie Old Stream Farm qua su Farming Simulator 22 c'è un po' di cose, un po' di cose da dirvi, un po' di trucchetti da darvi e un bel po' di cosine da fare siamo ad ottobre, sto trebbiando i miei bei girasolini che poi diventeranno olietto ho vendemmiato, anche quest'anno la vendemmia è andata ho fatto un bel po' di litri di olio, di vino e devo dire che ci ho fatto un bel po' di soldini perché qua il vino, di quella produzione laggiù che abbiamo già visto nella relativa puntata ce lo pagano un botto, ce lo pagano veramente tanto 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 sia vino in bottiglia che vino in botti, ce lo pagano tanto come vedete quei soldi siamo andati su, abbiamo ripagato anche una parte del debito adesso abbiamo 400.000 euro di debito, non più 700.000 e in più abbiamo altri 300.000 euro che adesso andremo subito a spendere perché la farm si sta ingrandendo, si sta espandendo io c'ho bisogno di molto, molto, molto fieno perché ste vacche, sia quelle da carne, sia quelle normali, da latte mi se stanno, io vado a mollo, io vado a mollo, io vado a mollo, ve lo dico ecco dicevo, mi se stanno a magna vivo ste vacchette e perciò dovrò comprare più campi, più campi ad erba ho necessito di tanto fieno, tanto insilato insilato abbiamo già comprato un campo supplementare per quanto riguarda l'erba dovrò comprare anche lì un campo supplementare ad erba però per lavorarla tutta a sterba mi ci serve qualcosa di grande perché non è che io posso passare giornate a tagliare l'erba quindi questa puntata ho deciso di iniziare a comprare una semovente per il taglio d'erba e compriremo quella super mega grossa della Crohn aspettate che qua tanto sono pieno mo devo andare a recuperare il carro dove l'avevo messo il carro con il carro? ma non ce l'ho proprio il carro il carro non ce l'ho, ne avevo preso il carro allora ho prendo subito il carro aspettate, prendo il G240 andiamo a prendere il carro per metti i girasoli nel frattempo che andiamo a prendere il carro io vi ricordo un po' di cose che sono in live tutte le mattine e tutte le sere sull'altra piattaforma dove se avete Amazon Prime potete sostenermi gratis con un abbonamento e se volete qua su Youtube potete offrirmi sotto ogni video è possibile farlo un caffettino con la nuova funzione Super Grazie intanto io mentre vi parlo del Super Grazie è partito un super lag dicevo con la funzione Super Grazie voi cliccate lì e potete offrirmi un caffettino intanto io mi sto a incollare un po' di tutto le persone che ieri mi hanno offerto il loro caffettino mentre sto veramente per sbroccare di brutto dicevo le persone che ieri mi hanno offerto il loro caffettino sono Enrico Silvestro e UUFGJ grazie, grazie amici per il vostro supporto che per me è importantissimo e fondamentale grazie amici del vostro caffettino vi bacio e vi voglio bene detto questo iniziamo un po' a vedere che cosa fare io ci vorrei mettere l'operaio qua non so come lavorerà non so come lavorerà qua l'operaio però direi che è arrivato il momento no, casomai qui finisco io poi l'operaio lo metto sull'altro campo non lo so, mi mette un po' d'ansia mette l'operaio qua allora, poi ci saranno anche le olive da raccoglie dobbiamo fare anche la nostra prima raccolta d'oliva però stiamo a ottobre perciò stiamo proprio al limite tempo, tempo, tempo con l'ultima fienagione dell'anno è per questo che mi voglio concentrare un attimino sulla fienagione mentre che l'operaio fa questo scarica un po' lenta questa trebbiotta scarica un pochettino lentina pochettino lentina i girassoli devo dire che hanno reso abbastanza bene adesso andiamo a vedere anche l'agricoltura di precisione qua il punteggio ambientale stiamo a 77 in alcuni campi mi si è un po' abbassato siamo andati a sbattere a 84 perché? questo è il primo trucchetto che vi voglio svelare perché si è abbassato? perché ho erpicato quindi il gioco dopo varie prove vi posso dire che preferisce la semina diretta piuttosto che erpicare quindi non solo arare è dannoso diciamo ma anche coltivare vi penalizza vi penalizza quindi mi raccomando seminate direttamente se puntate al livello più alto io purtroppo ho fatto la cacchiata di usare il coltivatore perciò non vedrò perlomeno per quest'anno il livello più alto intanto qua purtroppo i girasoli non hanno reso proprio tanto non hanno reso proprio tanto vedete che raccolto sul campo set abbiamo avuto l'80% qua l'80% qua il 100% credo che dipenda dal terreno dipenda dal terreno perché lì dove abbiamo raccolto poco il terreno è sabbioso franco quindi sabbioso franco non è proprio il massimo anzi perciò è proprio il tipo di terreno che ci ha penalizzato vabbè io metto l'operaio ovviamente qua andrà storto farà de tutto farà i danni però ragazzi io c'ho da fa c'ho da fa c'ho da fa adesso io mi faccio consegnare qua dal dallo shop la nuova falciatrice però prima andiamo a vendere lame vecchie tutto quello che è vecchio allora falciatrici no aspettate però oh 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 nell'usato che c'è niente figurate c'è qualcosa c'è un crosetto c'è un crosetto bellino il crosetto bellino il crosetto prossima puntata compramo il crosetto fammi ci pensare fammi ci pensare tuo amico che sta a guardare il video mi devi iscrivere Robby ma l'hai comprato più il crosetto fammi ci pensare adesso c'ho il carro quell'altro c'ho questo qua allora dicevo lame 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 falciatrici ecco vendiamo le pottinger e ci andiamo io spero che mi bastino i soldi per comprare la cron ehm 380 mila euro l'affitto l'affitto a sto punto l'affitto quanto mi costa 20 mila euro ogni falcio d'erba faccio un altro po' di debito la compro mi conviene comprarla perché se non andiamo rovinati con l'affitto allora con 4 falci d'erba all'anno allora vedete che c'ho 375 mila euro di debito non più 700 mila come ieri però qua mi tocca chiede un altro po' di debito ecco non tantissimo non tantissimo non tantissimo mi sto rincoglioni ragazzi non so se deve essere l'età allora eh lo prendiamo configurazioni ruote io vorrei le michelene che sono le mie preferite comprata ragazzi abbiamo fatto st'altra mega spesa st'altra mega spesa però però guardate però guardate che bestiola che abbiamo preso guardate che bestiola che abbiamo preso voglio di allora mentre che vado a a dispiegare la bestiola per andare a tagliare l'erba volevo dirvi un'altra cosa beh forse abbiamo scoperto qual è il problema dei tasti che perdono la configurazione il trucco stiamo ancora testando se funziona o no ma io ve lo do intanto così provate voi il trucco sta nel chiudere e riaprire il gioco quando si scarica o si disinstalla una mod cioè pare che i tasti vengono cancellati solo quando si effettua il download o la cancellazione di una nuova mod eh perciò voi ragazzi provateci provateci amici eh praticamente una volta che avete disinstallato una mod o installata non dovete fare altro che scusate non riesco a capire come si come si fa l'andana qua cambia modalità di lavoro ah no forse quando è accesa non si cambia cambia modalità di lavoro datemi un attimo eh eccolo andana no andana scaricamento andana ok così faccio pure prima a fare il fieno dicevo ragazzi eh che praticamente quando voi andate a installare una nuova mod ovviamente ce l'ho con gli amici di pc che hanno sto problema eh quando voi andate a scaricare una nuova mod o a disinstallarla non rientrate subito in partita ma installate scaricate poi chiudete il gioco e poi lo riaprite e solo dopo andate in partita eh così facendo dovrebbe non cancellare più i dati io sto cercando di provare non è ancora una cosa che mi sento di dirvi al 100% però provate e tentare non nuoce fatemi sapere nei commenti se anche voi eh riscontrate questo feedback positivo con questa cosa qua oh raga è un'altra cosa è un'altra cosa è tagliaco sta roba eh tagliaco sta cosa è un'altra è un'altra proprio è un'altro mondo più veloce più intuitivo più adesso dobbiamo anche comprare qualche altro campo d'erba però non c'eramo più una lira perciò lo compreremo più là però ecco guardate qua è già tutta un'altra cosa tutta un'altra cosa e voilà e voilà mi piace mi piace a mi me gusta a mi me gusta ma gna me na lo gusta allora a posto andiamo indietro piano ok dai dai che funziona bene che view che view bella o da dentro che view si però andiamo storti con che view non vediamo niente ragazzi non amo il che view eh c'è poco da fare non è che tutti potevano amare le stesse cose io il cap view non lo amo I don't am come si dice in inglese I don't am the cap view devo anche vedere che tipo di voltafieno c'ho perché perché forse è il caso di comprare anche un voltafienetto più largo semmai però ci sta eh ci sta l'acquisto di questo bestione così famo prima ci sbrigamo chissà che fine ha fatto l'operaio co coi girasoli c'ho una paura quando quando l'operaio non lo senti e non lo vedi cioè non scrive che si è incastrato non scrive che ha finito non scrive niente preoccupatevi perché quando quando è così la situazione è un po' gravina un po' gravetta boh mo l'andamo a vedere non scalamo anche i soldi poi no ma questo si è incartapecorito su una pianta ve lo dico io questo si è incartapecorito su una pianta vabbè fatemi finire un attimo sicuro si è incartapecorito su una pianta che ci abbiamo messo la gaffa al campo due minuti eh dai è un acquisto un acquisto troppo giusto questo che ci voleva io vi consiglio di fare l'andane anche quando dovete fare fieno perché eh così fate prima a volta fienare e fate prima poi a rinda riandanare se vuol dire riandanare riandanare successivamente perciò io faccio sempre l'andana sia quando devo fare erba sia quando devo fare fieno aspettate che qua scusate aspettate che qua dobbiamo finire a posto a postino a postino ragazzi andiamo in farm e soprattutto andiamo a vedere che fine ha fatto l'operaio intanto lì ci sono le erbacce eh ci sono le erbacce che stanno sputtando fuori perciò serve il nostro sistema John Deere Sian Spray assolutamente che ho fatto? ho fatto ho messo la GPS no volevo solo spegnere la lampeggiante Sian Spray il nostro sistema Sian Spray ok questa ecco avete visto come si parcheggia? a posto la parcheggiamo qua vediamo che fine ha fatto l'operaio io so lo so che sta in carta ha finito ha finito così avete visto ragazzi che ci vuole a Tre Biancampo? è un attimo è un attimo avete visto? è un attimo non lui ha finito lui tutto tutti questi gelasoli qua per lui non esistono ha finito che ci vuole? eh voglio dire mamma mia che amarezza che amarezza vi ricordate quando c'eravamo illusi che l'operaio funzionasse meglio eccetera eccetera quante illusioni quante illusioni allora vabbè poi dopo ci vengo io a finirlo adesso devo fare altre cose ad esempio prendere il il mio bellissimo Doitz Doitz dov'è il Doitz? Doitz mettere la scene spray e andare a dare andare a dare potete farci un rap andare a dare il di serbo ma io non ce l'ho la scene spray qui ragazzi ce l'ho perché c'ho pure l'altra botte mica mi ricordo forse ho comprato la scene spray e l'altra botte non l'ho venduta vediamo un po' oggetti posseduti rodatrici sì questa non l'ho venduta via la vendo ma la scene spray dove sta? lo so lo so mi pare di sentire qualcuno che ha detto ma guarda che potevi mettere il scene spray anche sulla botte nuova ho capito cioè sulla botte vecchia ho capito ma io questa qua l'ho comprata prima dell'update delle botti della Kverneland quindi ormai c'ho questa che senso c'ha rivendere la nuova nuova c'ha più senso vendere quella vecchia ecchi c'è scene spray scene spray queste non dovrei calpestare nulla la coltura al primo stadio esatto andiamo col scene spray e trattiamo un po' le erbacce così siamo ottobre abbiamo già fertilizzato tutto poi qua diserbiamo tutto e non abbiamo più problemi fino al prossimo annetto fino al prossimo annetto vedete come scene spray che spettacolo il sistema scene spray è qualcosa di spettacolare guardate come scene spray scene spray in una maniera sì perché scene spray che cosa fa il scene spray scene spray voglio dire scene spray ecco fatto abbiamo un botto di lavori da fare trebbiatura controllo delle infestanti gli animali che in mese mancano vivo le vacche qua mancano come dei cammelli una roba ragazzi paurosa 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 vermont 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 allora mentre che io controllo le vacce inizio a ringraziare tutti voi che siete arrivati fin qui a ringraziare gli amici abbonati anima vita al cuore del canale con il settore del canale di sostenere avanti di portare tutti questi contenuti vi ricordo che in descrizione ci sono tantissimi link per affittare un server nitrato per comprare giochini scontati di system gaming per comprare farming e tutto quello che riguarda giants dalla mia affiliazione ed aiutarmi con la scalata verso l'oro che per me ragazzi è un sognotto è un sognotto la scalata verso l'oro e niente lasciate un bel like iscrivetevi se non siete iscritti e noi ci vediamo al prossimo video mentre io continuo a si esprayare ciao ciao ciao